Sei terrorizzata all'idea che le tue acque si rompono in pubblico o che non riuscirai a raggiungere l'ospedale in tempo quando questo accade a te? Stai per imparare esattamente come non andare in panico quando le tue acque si rompono. Benvenuto su questo canale, il video di oggi è tutto dedicato alla rottura delle acque, andremo a vedere cosa sono veramente le acque, perché si rompono e cosa fare quando questo succede. Mi chiamo Ilenia, sono un'estetica che da ormai più di 6 anni aiuta mamme a raggiungere il loro diale di gravidanza parto per perio e mi trovo sempre sorpresa da quanto questo evento che è assolutamente normale e anzi va trattato come un momento di conclusione della vostra gravidanza, un momento significativo nel marcare l'inizio di quello che sarà il travaglio che vi porterà a vedere il vostro bambino, sono sempre sorpresa da come in realtà questo evento crea tantissima ansia e paura nelle mamme in attesa. Quindi davvero con il video di oggi cercherò di farvi capire perché potete assolutamente stare tranquille e non correre in ospedale come si vede fare sempre nei film, perché la percentuale di donne che partorisce dopo 5 minuti dall'ortura delle acque è praticamente inesistente. Mi si sono rotte le acque, la famosa frase colloquiale è usata per indicare quello che medicalmente viene chiamato la rottura della borsa amniocoriale. Infatti queste famose acque non sono altro che liquido ammiotico, liquido ammiotico contenuto in una borsa, il zacco ammiotico. Più o meno questo è il suo aspetto, questo bambino non è un bambino a termine, magari, quindi è anche più realistico perché le acque in genere sono molto di più all'inizio della gravidanza e mano a mano le vie che avvicinate alle ultime settimane riducono le loro quantità. Proprio perché il bambino è più libero di muoversi liberamente, le acque promuovono il suo sviluppo motorio e attivano anche il sistema digerente, infatti il bambino pratica ad ingoiare, beve anche un po' di liquido ammiotico e poi lo ributta fuori tramite l'urine. È un componente fondamentale per una corretta crescita e sviluppo nella vita embrionale. Le acque in realtà sono composte da due strati, l'amnio e il corio, che proteggono il bambino durante tutti i nostri 9 mesi. Non sappiamo bene perché si rompono, potete capire che se c'è in presenza di contrazioni la pressione dell'utero del bambino che spinge nella cervice faciliterà il processo di rottura delle acque, ma molto dovuto anche a degli ormoni e all'assottigliamento che le membrane vanno incontro alla fine della gravidanza. Ci sono due tipi di rottura, una che involve la rottura del sacco anteriore, ovvero quella borsetta col cuscinetto di acque che sta davanti alla testa fetale. Questo causerà una rottura delle acque con molta più pressione, da qui la rottura apocalittica delle acque che vi bagna le mutande, i pantaloni e a volte arriva anche nel pavimento. Quella è molto più facile da individuare. Altre volte invece la rottura può essere in qualsiasi punto dell'utero e questo fa sì che si crea il gocciolio che invece è un pochino più difficile da individuare. Cosa fare quando vi sentite bagnate ma non siete sicure, non sapete distinguere dall'urina perché può anche capitare quello alla fine della gravidanza? Quello che vi consiglio di fare è svuotare la vescica, mettere un salvaslip o un assorbente e distendervi per 30 minuti un'ora. Se quando vi tirate su sentite ancora bagnato probabilmente sono le acque, quindi mi raccomando annotatevi l'ora in cui avete visto il primo gocciolio perché quella è probabilmente l'ora in cui il vostro sacco si è rotto per la prima volta. Infatti distendendovi le acque si collezioneranno un po' nel vostro canale vaginale e farà sì che quando vi mettiate in piedi poi vengono giù. Se siete fuori all'aperto e a un certo punto sentite le acque che si rompono non vi preoccupate, il vostro travaglio potrà partire da lì a breve ma non partirà nel giro di 10 minuti, quindi avete tempo di ragionare su cosa dovete fare, organizzare le babysitter, le nonne, finire di fare la borsa, farvi una doccia, fare un pasto e poi andare in ospedale. Perché soprattutto se non avete contrazioni magari il travaglio ci metterà ancora un po' ad avviarsi, specialmente se è il vostro primo figlio. Se invece state già avendo contrazioni e ad un certo punto le acque si rompono, beh questo è un bellissimo segno che il travaglio sta andando avanti. Se non è il vostro primo figlio vi consiglio di andare in ospedale nel giro di una o due ore. Se il vostro primo figlio è stato avendo qualche contrazione potete aspettare un attimo e essere sicuri che le contrazioni siano regolari ogni 5-10 minuti prima di andare. Mi raccomando sempre chiamate all'ospedale per avvertirli dalla vostra ostetica al vostro dottore ma in generale se rispettate dei criteri potete prendervela un pochino più con calma. Questi criteri sono che siate 37 settimane. Infatti se le vostre acque si rompono e non siete a termine di gravidanza qualsiasi motivo ci sia non è fisiologico quindi dovete andare in ospedale velocemente. Questo perché il vostro bambino sarà più piccolo, avrà più liquido amniotico, magari sarà in posizione podalica, dovete assolutamente ricevere assistenza medica il prima possibile per evitare cambiate in quello che viene chiamato il travaglio pretermine. Se invece siete 37 settimane e sapete che il vostro bambino è cefalico e il liquido amniotico rispetta certi parametri che vi sto per dire, potete stare sicuramente un po' più tranquille. I parametri a cui mi sto riferendo sono il colore del liquido amniotico che deve essere trasparente. Potrà essere un pochino rosato perché quando le acque si rompono magari qualche capillare anche si rompe dando questo colore un po' rosato, ma è generalmente trasparente. L'odore deve essere neutro, infatti se sentite un odore strano che ricorda un'infezione, beh quello è già l'altro motivo per preoccuparsi. Il liquido amniotico sa un po' di terra bagnata dopo una tempesta, almeno questo è il mio romanticismo che viene fuori. Semplicemente è un odore un po' dolciastro tendente al neutro. La quantità, abbiamo parlato di rottura alta e rottura bassa, ma se continuate a perdere grandissime quantità del liquido amniotico andate in ospedale per controllare che il vostro bambino non si sta muovendo o che il cordone non cambi posizione durante questi continui rilasci di acqua. Inoltre sempre tenete d'occhio ai movimenti fetali per controllare che il bambino stia bene e che comunque la rottura dell'acqua non l'abbiamo fastidita in qualche modo. Se rispiecchiate questi parametri avete tempo per fare una doccia, fare un bel pasto e andare in ospedale. Se siete nel 10% delle donne a cui le acque si rompono ma non avete contrazioni non vi preoccupate perché la buona notizia è che l'80% di queste donne entrerà in travaglio nel giro di 24-48 ore. Quindi le ultime linee guida ci dicono che è assolutamente sicuro fare un management conservativo e aspettare che il travaglio parta spontaneamente, proprio perché vogliamo limitare gli interventi medici più che possiamo. Se invece dopo 24-48 ore, a seconda di dove siete, il travaglio ancora non è partito, l'ospedale vi consiglierà un'induzione, proprio per accorciare il tempo in cui il vostro bambino è esposto a infezioni o agenti esterni. Infatti il sacco amniotico, un'altra delle sue funzioni è proteggerlo da tutti i batteri o agenti esterni che ci sono nella vita extratorina nel canale vaginale. Se questa porta è aperta, dobbiamo semplicemente stare più attenti che nessuna infezione arrivi nell'ambiente intrauterino. Questo infatti può causare temperatura nella madre, un attacchi cardia, ovvero che la frequenza cardiaca fetale è in aumento, anche quella materna, e in generale portar via della sepsi che richiede più interventi medici, antibiotici, ricovero in ospedale più lungo, tutta una serie di cose che vogliamo davvero evitare. Un altro fattore che può inficiare con queste infezioni sono appunto le visite vaginali. Quindi davvero volete ridurla al minimo possibile. Se le vostre acque si rompono e non avete contrazioni, non potrete essere in travaglio attivo. Quindi è assolutamente inutile che riceviate una visita vaginale. Se le vostre acque si rompono, nonostante specchiate di questi criteri, se siete testate positive per lo streptococco di gruppo B, dovete andare subito in ospedale. Questo perché vi forniranno una terapia antibiotica, proprio per evitare che quel batterio assolutamente comune e che abbiamo la maggior parte dell'essere umano ha nel corpo, nella gora, nell'ambiente vaginale, proprio per evitare, dicevo, che questo salga nell'ambiente intraterino. Lo stesso succederà alla copertura antibiotica vi verrà data se il vostro travaglio non è partito dopo 24 ore e ancora il parterone è imminente, proprio per proteggere qualsiasi tipo di infezione. La rottura delle acque è un segnale positivo se siete a termine di gravidanza con un bambino cefalico, significa che siete sempre più vicini a incontrare il vostro bambino. Specialmente se avete contrazioni, è un segnale davvero rassicurante che il travaglio sta procedendo bene e siete in travaglio attivo se le vostre contrazioni sono regolari. Infatti alcune donne hanno davvero bisogno della rottura delle acque per far sì che il loro travaglio decolli e che vada avanti più velocemente, mentre invece altre donne non vediamo la rottura delle acque fino a quando non sono 10 cm di latazione completa o addirittura non la vediamo finché il bambino è nato. Infatti non è raro vedere i bambini nati nella cosiddetta camicia, quindi ancora avvolti dal sacco. Proprio perché certi cervice non si dilatano comunque, a prescindere da che le acque sono rotte o no. Anzi, addirittura alcune traggono beneficio dall'avere questo palloncino che dilata la cervice in maniera molto più soffice e gentile. Non vi preoccupate se ha il vostro corpo a decidere, con il vostro bambino a decidere se le vostre acque ne devono rompersi o no prima del travaglio o dopo o alla fine. Questo per, di nuovo, per dirvi quanto è importante evitare tutti quel tipo di interventi medici tra cui la rottura artificiale delle acque se il vostro travaglio sta procedendo bene. Ricordatevi che c'è sempre un motivo se le acque non si sono rotte. Magari il bambino sta ancora approfittando di quell'extra space, di quello spazio extra per nuotare, cambiare posizione, impegnarsi meglio, girarsi. Quindi non vogliamo davvero intervenire con quello che la natura e il vostro bambino sta facendo benissimo. Vi faccio capire meglio a cosa mi sto riferendo. Chi ha già visto il video delle visite vaginali sapre esattamente cosa sto per fare. Se non l'avete visto mi raccomando guardate quello anche perché vi darà tantissime informazioni necessarie per capire cosa succede durante il travaglio alla vostra cervice e al vostro utero, al vostro bambino. Se l'avete già visto sapete che questo è l'utero. Oggi abbiamo un utero floreale in dotazione che questa è la vostra cervice che è appianata al 90% o al 100% quasi completamente appianata e abbiamo una derotazione di 5-4-5 cm qua. E questo rosa è il sacco e la borsa miocoriale. Quindi con le contrazioni vedete questo palloncino che gentilmente tira e allarga la cervice. Semplicemente fare in modo che questo si dilati più soffice come se un cuscino davvero stia gentilmente distendendo i tessuti cervicali in maniera gentile e assolutamente involontaria. Se invece come vedete abbiamo un cranio fetale quindi delle ossa, delle squame osse sulla cervice, presentazione di faccia. Mentre invece se le acque si sono rotte e quindi abbiamo un vertice, una posizione cefalica che sta dilatando la cervice, vedrete che le ossa hanno una funzione diversa rispetto a quella della borsa miocoriale e magari dilatano la cervice in maniera un po' più meccanica. E' tutto per questo video mamme, come sempre sapere è potere e quindi davvero spero che durante la vostra gravidanza voi troviate tutte le informazioni necessarie a rendervi consapevoli e sicure di quello che potrà succedere nel meraviglioso viaggio della gravidanza. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!